Ricorda, qui sei in incognito. Il tuo travestimento sarà utile solo se ti darai lontano dalle buoni piccoli. Gli obiettivi sono indicati in cui tu ti vuoi chiamare il bimbo. Ottieni l'accredito e muoviti rapidamente. Non abbiamo molto tempo per preparare l'imboscata prima che io stia ancora. Controlla il tuo PDA. Accidenti, hai trovato l'ufficio di Fadil. È un chirurgo plastico ricercato dall'Interpol in 12 paesi. È specializzato nel far cambiare identità a criminali e terroristi di tutto il mondo. Se ci riesci scatta delle foto dei suoi documenti. Cerca un posto tranquillo, in disparte, dove gli uomini di Cosce non possono vederti. Non puoi lasciare cadavere dove possono essere scoperti dagli uomini di Cosce. Devi spostarli. Eccellente. Ora entra nella zona riservata. Grazie. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Con il capitano, stanno fuggendo, bisogna eliminarmi! Entendete, hai eliminato gli uccianko. Ma non avevo consegno delitore di francese, però... Hai completato la missione in tempo record. Ottimo lavoro! Cobra è riuscito a non essere ucciso.